Un migliaio di studenti coinvolti di 12 diverse scuole e 82 titoli in concorso di 42 diverse case editrici. Questi numeri che permettono di sagomare la dimensione di letteraria, la rassegna di cui da domani a domenica si celebra la tre giorni conclusiva, dopo che già a partire da gennaio ragazze e ragazzi sono stati impegnati nella duplice veste di lettori e giurati. Complessivamente sette finalisti, distribuiti fra narrativa italiana e traduzione di narrativa straniera, che rappresentano poi le due sezioni canoniche del premio. La trasversalità della platea, espressa non solo da licei ma anche da istituti tecnici e professionali, e la piena autonomia assicurata agli studenti al momento di aderire all'iniziativa e poi di selezionare le opere, gli altri aspetti distintivi di un format che raccoglie l'appoggio convinto dell'assessorato alla cultura del Comune di Fano e della Fondazione Carifano, che mette anche a disposizione San Domenico, con la Memo, uno dei due siti che ospitano gli eventi costruiti attorno ai finalisti, oltre che di Aset e Lions Club Fano. Diciamo che le tre giornate saranno fittissime perché ogni pomeriggio prevede quattro incontri, due in Mediateca e due in San Domenico, organizzati in modo che si possano seguire tutti. La prima giornata avrà al centro il tema del cambiamento climatico con i due incontri in Mediateca Montanari, tra i quali l'invito ad Ananadotti a parlare di Amitav Ghosh e della Grande Cecità, che è un saggio capitale dedicato al ruolo che la letteratura e l'immaginario letterario hanno nel costruire un mondo differente, lontano dal consumo così brutale, insomma, dallo spreco. E invece in San Domenico due momenti, diciamo così, estremamente gradevoli, perché uno sarà un racconto musicale di un autore, Peppe Millanta, che è un eclettico, e quindi ci delizierà appunto anche lui toccando i temi della cura, della cura per i luoghi, per il mare in questo caso, insomma, che porta con sé storie, e poi l'incontro con il critico Filippo Laporta, perché quest'anno è il centenario della nascita di Goliarda Sapienza e il venerdì avrà un momento dedicato a lei. Ogni anno facciamo un omaggio a un autore, quest'anno a lei, con una lezione magistralis, e poi la sera, presso la Chiesa del Suffragio, ci sarà questo splendido spettacolo teatrale intitolato appunto Amara Sapienza. Gli altri temi, l'altro tema, quello dei diritti e della guerra, emerge per potentemente nelle giornate del sabato e della domenica, perché abbiamo due romanzi in finale, Zamir di Akan Gunday e Il palazzo delle lacrime di Sebnen Ezziguzel, che sono due scrittori turchi. Sebnen è una donna e parla dei diritti delle donne negati, e Akan Gunday è un giovane scrittore che parla di campi profughi, della guerra, e di che cosa possiamo essere disposti ad accettare per la pace. Quindi sono temi molto forti e provocanti. La domenica l'intelligenza artificiale entra prepotentemente nelle giornate con l'omaggio a Kazui Shiguro, che è premio Nobel per la letteratura, al suo romanzo Clara e il sole, con due momenti, un racconto originale costruito da giovani che collaborano con noi da alcuni anni, giovani lettori che diventano anche creatori di contenuti, un racconto per voce, quella di Luca Petrelli, su un testo scritto da Lorenzo Livieni, accompagnato dalla musica di Tommaso Bacchielli e, cosa che mi preme molto dire, da queste illustrazioni realizzate con l'intelligenza generativa da Tiziano Cremonini. E a chiudere l'Alexia Magistralis di Susanna Basso, che è la traduttrice, la voce italiana di Kazui Shiguro, nonché di tanti altri grandi scrittori inglesi, che appunto ci racconterà come questo tema entra nella letteratura. Letteraria è sicuramente un evento culturale di altissimo livello, la presenza di scrittori e di traduttori, non solo italiani ma anche esteri, la rende un momento molto importante, ma forse l'elemento principale di questa manifestazione è la presenza dei giovani, la presenza dei giovani delle scuole superiori, più di mille studenti, che per un intero anno diventano lettori e critici di queste opere. Quindi è uno spazio dedicato interamente ai giovani, per questo l'amministrazione comunale sostiene e continuerà a sostenere letteraria.